Nella graziosa e verdeggiante Gubbio il Pescara ottiene una vittoria dopo una marea di occasioni sciupate. Un migliaio di tifosi biancazzurri appena tesserati tra lo sdegno della curva nord che invocava coerenza e non opportunismo contro la tessera del tifoso. Zeman conferma il Pescara tennistico di Padova con Bocchetti a sinistra e Balzano a destra in luogo di Zanon. In avanti il 18enne Caprari ancora preferito a Sansovini, assente Cone. Il tecnico Umbro a Poloni conferma la difesa a 5 con tre centrali, senza il promettente portiere Donnarumma ma con il giovane Farabi. Assente il talentuoso Bazzoffia, in avanti c'è l'ex Ciofani mai riscattato dal Pescara. Arbitra il romano Gennaro Palazzino di Ciampino. Padroni di casa subito aggressivi dopo meno di un minuto, Ciofani prova a sorprendere Anania, tiro di poco a lato. Azione corale al terzo minuto, tiro finale di Caprari, Farabi para a terra. I ritmi diventano elevati, al diciassettesimo Immobile sfonda in area di rigore, fermato all'ultimo metro dal Mici, ma l'arbitro non concede il penalty. Tra il ventisettesimo e il ventottesimo accade l'incredibile. Prima la traversa di Insigne con un gran sinistro, poi è Caprari a colpire il legno. Immobile riprende il pallone, il tiro, la rispinta di Farabi. Al trentatresimo Insigne sbaglia l'impossibile. Su palla di Caprari da destra, Lorenzino a porta vuota confonde i piedi e manda incredibilmente alto. Ancora Insigne, prima al trentasettesimo, tra due avversari, tiro a giro, parata di Farabi. Poi al quarantatresimo ci prova con il destro, fuori. Porta del Gubbio stregata, la squadra di Zeman è mancato solo il gol in un primo tempo con ben quattordici tiri in porta. Inizia alla ripresa, il gioco è più spezzettato dai fali, il Gubbio riparte con lanci lunghi. Caprari prova a sfondare da sinistra, diagonale attraversa tutta l'area di porta e finisce a lato. Per la prima vera occasione bisogna aspettare il dodicesimo con un Pescara davvero sfortunato. Ancora un palo clamoroso su tiro a botta sicura di Insigne, l'assistera di Caprari. Poi Immobile non riesce a mettere dentro. I giocatori biancazzurri si disperano e sono increduli per ciò che sta accadendo. Entra Zanon, poi dentro anche Sansovini per un generoso Caprari. Due sostituzioni anche nel Gubbio, travolgente Insigne al 31esimo sulla sinistra. Accelera, tira, respinge Farabi ma il gol arriva subito dopo e lo mette a segno il capitano Marco Sansovini. Verratti suggerisce Sanso di testa, ancora palo ma poi riprende la palla e mette a segno il meritatissimo vantaggio con il quindicesimo gol stagionale che proietta i biancazzurri al secondo posto da soli dietro al Torino. E al 42esimo arriva il raddoppio con il meritato gol di Insigne che su assist di Zanon stoppa di petto e insacca di destro. La gioia dei tifosi biancazzurri poi Immobile prova una gemma da distanza siderale. Sarebbe stato un gol fantastico ma va bene così e martedì primo maggio arriva un disperato Vicenza con l'acqua alla gola.